Prendiamo una scatola di cartone o quello che trovate in casa, la forate, in modo da poter inserire delle tessere. Si possono stampare diverse tessere, che possono essere animali, mezzi di trasporto, oggetti della vita quotidiana del bambino, per incentivare i suoni nomatopeici che vengono prodotti dai bambini. Serpente, poi l'anatra, qua, 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 e si possono specificare al bambino. Pesce, il bambino può ripetere in base alle sue possibilità. Un modo alternativo è utilizzarle per la comprensione, quindi fargliene vedere due e dire al bambino Dov'è macchina? Il bambino deve prenderla e inserirla. Metti, metti macchina!